Sono in contatto con loro, sempre sono in contatto con la Viga, direttore del Consiglio Moretti che è un uomo di esperienza enorme fuori da tutte queste operazioni di volo, garantendo il sicuro l'ingresso e l'uscita delle varie esperti per dimostrarci, per farci vedere, divertirci con quelle che sono le capacità. E allora, lui, lui, parallela alla forza, la V139, guarda così, parla di questo interesse. Anche in questo caso, forno, per me, io, mi chiamo, che sono un'altra, la V139, guarda così, 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 guarda così. Grazie. 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 Grazie.